Pranzo di Natale con sorpresa per l'Ital Service Pesaro di Calcio a 5 che si consegna alle festività con un super regalo. Quello che il presidente Lorenzo Pizza, microfono alla mano, ha annunciato in anteprima all'incontro conviviale di auguri con la squadra e lo staff dirigenziale tenutosi oggi al ristorante L'Artista sul Lungomare Pesarese. L'Ital Service infatti decide di regalarsi un palasport di proprietà, decide per un salto triplo di qualità a livello strutturale frutto di sforzi aziendali e supporto di sponsor che consentiranno al Calcio a 5 di non dipendere più da situazioni esterne alle proprie volontà dopo un anno trascorso ad allenarsi e giocare partite rimbalzando fra Pesaro, Fano e Rimini. Praticamente l'Ital Service sarà la prima società che avrà un palazzetto dello sport di proprietà, quindi abbiamo un palazzetto di proprietà, quindi ci svincoliamo da tutto e da tutti, quindi non avremo più bisogno di nessuno. Sarà proprietà dell'immobiliare nostra di famiglia, quindi si allenerà solo, giocheremo solo a Calcio a 5. Una mossa molto importante per valorizzare uno sport, per valorizzare quella che è una nostra passione a cui teniamo tantissimo, quindi avere un palazzetto dello sport di proprietà, quindi non dovremo chiedere niente a nessuno. Si alleneranno il settore giovanile, si alleneranno i ragazzi, vi allenerete voi, probabilmente giocheremo lì qualche partita di campionato, adesso stiamo valutando insieme al Comune di Vallefoglia e quindi ecco il discorso di questo sponsor, vi anticipo, è legato anche alla costruzione di questo palazzetto dello sport, una struttura importante, tarata per avere più di mille posti e quindi qualcosa di notevole, io penso che non è che ci siano tante società che abbiano strutture di proprietà, ecco questa riprova che comunque ha maggior ragione, vorrei sottolineare che comunque la volontà nostra è quella di andare avanti, perché è un investimento importante. Applausi scroscianti per la notizia in mezzo ad un pranzo di ringraziamenti, auguri, regali ed incitamento, quello che la dirigenza ha rivolto alla squadra per un brillante 2022. Noi sappiamo di poter contare su gente come voi che non darà il 100%, ma il 110, poi le partite si possono perdere, la palla dicono sia tonda, ci sono gli episodi, ma noi partiamo con una certezza che voi date tutto, lo avete dimostrato nelle difficoltà, più difficoltà avete più siete forti, più siete un gruppo, più siete una famiglia e questa è la cosa più bella che a gente come me, Giovanni, Alberto, che adesso non c'è, ci fa soddisfazione. Continuità societaria, crescita infrastrutturale e una pancia di vittorie sportive mai sazia, questi i buoni propositi per l'anno nuovo dell'Ital Service. I buoni propositi sono la speranza di vincere tutto, quindi queste sono le nostre aspettative, adesso il 4 gennaio abbiamo una supercoppa Eboli, dobbiamo andare a giocare a Eboli, poi ci sarà Coppa Italia, poi ci saranno i play-off, noi speriamo, noi siamo convinti di quello che facciamo, siamo molto soddisfatti, abbiamo un grandissimo gruppo, un grandissimo allenatore, un grosso staff dirigenziale, quindi siamo molto ottimisti e molto fiduciosi e speriamo di arrivare in fondo a tutte le competizioni, adesso al di là noi scherziamo sempre con Giovanni Baldelli, con Moreno Bordogna, Alberto Pieri, con mia moglie, Simona, scherziamo e diciamo vogliamo vincere tutto, questo è quello che noi ci prefiggiamo e ci proponiamo, poi dopo chiaramente cerchiamo di fare del nostro meglio, noi ci siamo, un ringraziamento a tutti i tifosi che continuano a venire a vedere l'Ital Service in maniera costante assidua, quindi un grosso auguro a tutte le persone che comunque ci hanno sempre sostenuto, ci sostengono, al gruppo dei nostri tifosi e quindi questa è la nostra passione che coinvolge una città. Grazie.